Cantina di Gonzaga, una storia di uomini e donne raccontata tra la terra e la tavola, che riporta il valore delle cose fatte per bene, per offrire ogni giorno un vino di qualità eccellente. Vieni a scoprire i nostri prodotti presso il punto vendita in Viale Stazione 39 a Gonzaga, Mantua o su cantinagonzaga.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.